Ciao a tutti cari ascoltatori di Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere la situazione meteorologica fino al 31 di ottobre perché il tempo sta cambiando ed è cambiato e l'Atlantico non si è mai visto così attivo negli ultimi mesi. Ed è per questo inoltre che vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati con video come questi. Infatti ben oltre il 75% di voi guarda continuamente i nostri video ma non è iscritto iscrivendovi e arriveranno direttamente le notifiche sui vostri dispositivi così da rimanere sempre aggiornati e non perdervi neanche un aggiornamento meteo e così senza dover sempre andare a cercare previsioni meteo al meteo Italia arriveranno direttamente le previsioni sul tuo dispositivo. Ti ringrazio dell'ascolto e andiamo subito a vedere la situazione meteorologica per i prossimi giorni. Ebbene il ciclone e la tempesta che ha interessato il Portogallo e la Spagna si sta spostando verso il Regno Unito. Un minimo di pressionario si andrà a spostare poi anche sulla Francia ponendo anche un piccolissimo minimo sul Golfo dei Leoni che porterà un forte peggioramento nella giornata di domani lungo le coste della Toscana e della Liguria ma in generale del centro nord. Durante questa fase poi un piccolo lieve miglioramento ci sarà tra la giornata tra il 22 e il 23 ancora in stabilità sul centro nord ma un piccolo miglioramento risalita delle temperature sul centro estremo sud ma dal 24 un flusso d'aria fredda atlantica investirà il nostro paese come si può vedere da queste immagini interessando prevalentemente il centro nord con nuove precipitazioni e temperature nuovamente in diminuzione. La situazione poi da qui sarà abbastanza movimentata perché da questo minimo di pressionario poi si svilupperà l'apertura della porta atlantica che farà ad arrivare una forte perturbazione di origine proprio nord atlantica come ho detto e con temperature in diminuzione questo porterà nevicate molto abbondanti soprattutto sui settori alpini e anche possibile prima nevicate sull'appenino. Le temperature diminueranno andando sotto la media stagionale come si può vedere anche da queste immagini di circa 2-4 gradi. Poi tornando di nuovo sul modello della pressione se si va dopo la giornata del 26-27 come si può vedere la situazione sarà abbastanza instabile con continui afflussi d'aria più umida. Per ora la situazione è ancora abbastanza incerta per quanto riguarda la fine del mese alcune volte le emissioni fanno vedere una nuova eruzione d'aria fredda altre emissioni invece potrebbero andare a rivedere la situazione meteorologica con l'arrivo di un'alta pressione. Questa per il momento non si sa ancora non dovrebbe essere troppo calda almeno comunque le emissioni, quella che stanno mettendo non sembra essere troppo calda quindi bisogna aspettare come andrà a evolversi la situazione. Ed è proprio per questo che iscrivendovi rimarrete sempre aggiornati con video come questi. Ti ringrazio ed un prossimo video.